Qualche giorno fa ero nello studio di un cliente e stavamo impostando insieme un nuovo computer appena acquistato. Ad un certo punto mi ha visto fare un'operazione un po' particolare e mi ha chiesto di che cosa si trattasse. Gli ho spiegato che nonostante che venga effettuato un debloat sulle macchine queste sono configurate in maniera tale da aprire una serie di canali inutili di comunicazione con Microsoft attraverso i quali vengono inviati una serie di dati e che stavo chiudendo questi canali in modo da fargli risparmiare banda, da fargli risparmiare traffico e soprattutto per far sì che queste informazioni non uscissero dal suo computer. Quindi un grosso vantaggio. E gli ho spiegato anche che faccio questa operazione su tutti quanti i nuovi computer proprio per questi motivi. Mi ha chiesto immediatamente come mai non avessi parlato di questa cosa in un video precedente. Devo ammettere che effettivamente io nel mio lavoro faccio tantissime operazioni che non mi verrebbe mai in mente di raccontarti se non ci fossero proprio le sollecitazioni esterne dei clienti. E allora andiamo a rimediare. Ti senti pronto? Iniziamo. Non troppo tempo fa diverse riviste di settore hanno riportato la notizia che era stato scoperto che ogni Windows 10 e Windows 11 apriva la bellezza di 10 canali di comunicazione con l'esterno attraverso cui passavano una serie di dati. Questi dati riguardavano tutte le abitudini dell'utente, tutte le operazioni fatte dall'utente con il computer e soprattutto tutto quello che poteva essere interessante a livello di ricerche di mercato. I 10 canali sono quelli che vedi elencati qui sul lato sinistro del video e in particolar modo uno di questi risulta essere davvero interessante ed è questo dominio scorecardresearch.com su cui vanno a confluire tutti quanti gli altri canali e che se andiamo ad aprire riporta delle notizie tanto interessanti quanto inquietanti. Mi sposto nel mio angolino in basso a destra così le leggiamo insieme. Per comodità ho tradotto la pagina in italiano e vado un pochino ad ingrandirla. Quello che ci viene detto è che scorecardresearch è un servizio di full circle studies incorporated che fa parte della comunità di ricerche di mercato di comscore incorporated, un'azienda leader nella ricerca di mercato globale che studia e riporta le tendenze e il comportamento di internet. Scorecardresearch conduce ricerche raccogliendo dati di navigazione web in internet e quindi utilizza tali dati per aiutare a mostrare come le persone usano internet, cosa gli piace e cosa no. Scorecardresearch raccoglie dati da due fonti principali, i sondaggi che non ci riguardano, te lo dico già, e il web tagging. Web tagging? Andiamo a vedere che cos'è il web tagging. Se facciamo una piccola ricerca in internet scopriamo che i tag web svolgono un ruolo cruciale nell'analisi digitale, consentendo ai proprietari di siti web di tracciare il comportamento degli utenti e raccogliere dati preziosi. Vediamo come funzionano i tag web. Il browser web dell'utente richiede una pagina dal server web, il server del sito invia il contenuto della pagina al browser, incluso il famosissimo codice per il web tagging. Il codice del tag viene eseguito dal browser e raccoglie tutti quanti i dati rilevanti richiesti dal tag stesso. E infine questi dati vengono inviati ai server di terze parti. Ma non è finita qui. Se scendiamo un po' più in basso in questa pagina troviamo qualcosa di ancora più inquietante. Ci viene detto infatti che la protezione dei dati è una questione scottante. I clienti sono più preoccupati che mai di come vengono gestiti i loro dati e vorrei vedere. I tag web raccolgono informazioni estese e talvolta sensibili sui clienti che ovviamente vogliono essere certi che i loro dati siano al sicuro. Se i tuoi tag web non sono sicuri potresti correre il rischio che i dati cadano in mani indesiderate. Quindi ricapitolando che cosa succede con i tag? Succede che ad esempio tu vuoi acquare degli acquisti e comprare dell'abbigliamento. Inizi a visitare alcuni siti web e c'è dell'abbigliamento che ti piace e dell'abbigliamento che non ti piace. Ebbene i tag web memorizzano le tue preferenze di abbigliamento. Dopodiché decidi ad esempio di comprare un paio di scarpe e in quel momento dovrai dare tutti quanti i tuoi dati personali. Come ti chiami, dove abiti, quanti anni hai, dove sei nato, dove vivi e così via. I tag web prendono tutte queste informazioni ma non le associano o meglio non dovrebbero associarle al tuo nome. Quindi queste informazioni vengono messe da parte. Dopodiché concludi l'acquisto e dai delle ulteriori informazioni per forza di cose. Quindi qual è la tua banca e quanto sei disposto a spendere per un paio di scarpe. Tutte queste cose vengono prese, ripeto, in forma anonima dai tag web e vengono inviati, si spera in maniera sicura, a dei server. Supponendo che nessuno nel transito dei dati li rubi nel mezzo e ne faccia un uso scorretto. E tutto questo utilizzando la tua banda, utilizzando il traffico che magari fai da smartphone perché non hai una linea ADSL e quindi rallentando il computer, facendoti spendere di più e appropriandosi comunque di alcuni tuoi dati personali. La buona notizia è che porre rimedio a tutto questo è davvero estremamente semplice e ci basta uno strumento banalissimo che abbiamo già a disposizione su tutti quanti i nostri computer per farlo. Tutto ciò che dobbiamo fare è andare in basso sulla barra di ricerca oppure sulla lente, cliccare e digitare notepad. Prima di aprirlo però attenzione, facciamo un clic con il pulsante destro del mouse e scegliamo esegui come amministratore. Clicchiamo su sì per accettare che vengano apportate modifiche al nostro dispositivo e si aprirà il notepad. Una volta all'interno di notepad facciamo clic sul pulsante file e successivamente sulla voce apri. Sulla barra sinistra portiamoci sulla voce questo pc, apriamola, scegliamo il nostro disco C e successivamente portiamoci sulla cartella windows. Scendiamo fino alla S per individuare la cartella che si chiama System32. Facciamoci doppio clic e scendiamo un po' più giù fino alla voce Drivers, questa qui. Apriamo Drivers e successivamente apriamo la voce che si chiama H, E-T-C. Come potrai vedere molto probabilmente la cartella apparirà vuota ma niente paura. Andiamo in basso a destra dove probabilmente anche sul tuo computer sarà selezionata la voce Documenti di testo TXT. Facciamo clic sulla frecciolina e scegliamo tutti i file. Vedremo che compariranno all'interno della cartella diversi file. Quello che ci interessa è il primo, il file che si chiama Host. Facciamo doppio clic per aprirlo e ci ritroveremo di fronte ad una schermata esattamente come questa. Spiegandolo nella maniera più semplice possibile e nella speranza di non incorrere nelle ire dei puristi diciamo che il file localhost decide che cosa può entrare e che cosa no nel nostro pc associando degli indirizzi IP a dei nomi di dominio. Per sicurezza prima di procedere andiamo quindi a fare una copia del nostro file localhost originale. Per farlo clicchiamo su file qui in alto a sinistra, clicchiamo su salva con nome, portiamoci sul lato sinistro su desktop e clicchiamo sulla voce salva. Vedremo comparire sul nostro desktop una copia di questo file ed ora procediamo con le modifiche. In questo caso quello che dovremo fare sarà cancellare le ultime tre righe e andare ad incollare un testo che ti lascio in descrizione che è questo qui. Praticamente quello che stiamo facendo è, a parte localhost che è la nostra macchina che viene in questo modo associata all'indirizzo locale 127 001, diciamo a tutti questi altri domini che sono quelli incriminati dalla spiegazione precedente di non uscire dalla macchina ma di fare riferimento alla macchina stessa e quindi queste informazioni non lasceranno mai il nostro computer perché saranno comunicati dalla nostra macchina a se stessa. Andiamo a salvare il file facendo clic in alto proprio sulla voce file e successivamente sulla voce salva. Chiudiamo il file localhost e riavviamo la macchina per andare a fare una prova del 9. Andiamo ad aprire il nostro browser e facciamo una ricerca qualsiasi per accertarci che internet funzioni correttamente. Direi che internet funziona come si deve. A questo punto andremo a provare ad aprire proprio quel dominio incriminato a cui venivano trasmessi tutti quanti i dati. Digitiamo quindi nella barra in alto il nome del dominio ovvero scorecardresearch.com e proviamo ad entrarci. Come vedi la pagina risulta adesso impossibile da raggiungere non solo per noi ma anche e soprattutto per tutti i nostri dati che sarebbero andati a confluire lì. Missione compiuta. Come vedi questa modifica è davvero semplice da apportare e non richiede alcuno strumento esterno. Se malauguratamente tuttavia qualcosa dovesse andare storto ti basterà copiare il contenuto della copia di salvataggio del file host che ti ho fatto mettere sul desktop su quella originale cioè quella contenuta nella cartella etc che ti ho mostrato nel video. Quindi a prova di errore. Ma parlando di argomenti più lieti ho davvero tanti ringraziamenti da fare oggi e quindi non perdo tempo e ringrazio immediatamente Davide Barraco e i gatti di Brescello per i loro graditissimi super grazie. Vi ringrazio infinitamente. Ma ringrazio allo stesso modo Giuseppe Demo, Johnny Juta, Francesco Francesco, Guido Sapigni, Germano Rossi, Antonio Bellavia e Paolo Negri per essersi abbonati al canale. È un supporto fondamentale quello che portate e sicuramente le mie parole e i miei ringraziamenti non sono sufficienti ad esprimere realmente la gratitudine che provo nei vostri confronti. A proposito sempre della community ti consiglio di visitare spesso la sezione community del canale e se hai qualsiasi dubbio di porcelo invece nel forum che abbiamo messo su all'indirizzo www.gentiluomodigitale.it E detto questo visto che mi sono dilungato già fin troppo non mi resta come sempre che salutarti e darti appuntamento. Alla prossima!